Allora qui siamo a casa di Adriano, questo è Comino Limauro in divisa, la manina c'è, bene mi sta formando delle pagnotte di segale, siamo alla spezzatura della pasta e alla formatura delle pagnotte, posata sugli assi, ottimo, anche un po' di più perché sennò facciamo troppi assi, Mauro sporziona un po' roba grossa che facciamo qualche cassetta anche, filoni in cassetta, che sono questi che vediamo dietro le tue spalle, sì, dagli un po' di forza, bravo, no no sei più bravo di me, io non ho questa manina qui, anche qualche filoncino comunque, adesso vedi tu se quello va bene in cassetta o troppo poco, provo a guardare in base alla cassetta, però devono diventare dei filoncini, giusto? Sì, allora vediamo, sì, vedete? Sì, direi che sì, è anche un po' più abbondante, cosa dice? Perché sennò, deve gonfiare un po'. Sì, ma guarda che non lo lasci lì? Sì, ma è poco, voglio dire, si può mettere ancora un pelino di più, non dico tanto di più, ok, quindi semmai la prossima sprezzatura, perché se poco tanto vale, allora facciamo pagnottini. Buono, dai, adesso ti do una mano, buono. Grazie. 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 Grazie.